dopo pasqua se la situazione sarà sotto controllo si riapra dice il leader leghista per il vice presidente di forza italia questo è esecutivo utile per superare la crisi sanitaria il leader della lega matteo salvini non rinuncia alla speranza di riaperture dove possibile dopo pasqua dopo l'ennesimo sacrificio richiesto agli italiani se la situazione nelle regioni se gli ospedali e i contagi saranno sotto controllo si riapra e si torni alla vita e sulla riproposizione delle zone gialle sospese nell'ultimo decreto anti covid è d'accordo anche antonio tagliani di forza italia sarebbe meglio avere la zona gialla anche per incentivare le persone ad avere un certo tipo di comportamento se dall'europa arriveranno i vaccini non basterà l'attuale personale altrimenti si dovranno bloccare gli ospedali per vaccinare aggiunge salvini ci sono accordi in via di definizione con infermieri o dontoiatri specializzandi e occorre coinvolgere anche l'esercito se serve noi siamo per una posizione molto pragmatica e cioè chiudere dove si deve chiudere spiega tagliani quindi ascoltiamo gli uomini di scienza io ho più volte detto che bisogna reinserire la zona gialla perché bisogna capire è meglio avere una finta zona arancione o una vera zona gialla io per evitare assembramenti avrei tenuto aperte palestre e piscine sono contro allo tutto aperto tutto chiuso se bisogna continuare con le chiusure allora c'è bisogna di uno scostamento di bilancio all'interno del governo ognuno fa la propria partita l'importante è che non ci siano polemiche una volta finita questa crisi si tornerà alla normalità ora bisogna collaborare ha continuato mi interessa la corsa sulla salute conclude salvini se ci sono automatismi sulle chiusure ci siano anche sulle riaperture se c'è un comune o una regione preoccupanti si chiuda quel comune o quella regione grazie a tutti